Ciao a tutti e bentrovati! Nel video di oggi volevo affrontare un paragrafo che da diversi giorni volevo farci un video e in particolar modo, pagina 45 di Alieni o Demoni, c'è un paragrafo che si intitola Menti Aliene Attive e Passive, l'ultima frontiera delle abdaction e in particolar modo inizia questo paragrafo parlando degli esseri di luce e c'è una differenziazione tra, parlando appunto dell'essere di luce come Lucifero del Vecchio Testamento, si parla di Astarotte, del Diavolo e di Satana praticamente sono figure che spesso le mettiamo insieme, almeno per quanto mi riguarda quando si pensa a Satana o al Diavolo o a Lucifero sembra di parlare più o meno della stessa figura e l'associamo generalmente al male e in particolar modo diciamo che il nostro punto di riferimento sono magari le cose che abbiamo imparato nel Catechismo, legate alla Bibbia, al Vecchio Testamento e abbiamo, cioè almeno io parlo per me, c'è questa figura un po' così che diciamo che ne abbiamo giusto un'informazione di un certo tipo. Interessante vedere come dalle ipnosi il professor Corrado Malanga ha tratto delle descrizioni particolari che magari venivano tramite sogni oppure mi è venuto in camera questa figura, oppure l'ho sognato, oppure nel viaggio sciamanico, oppure appunto nell'ipnosi venivano fuori delle figure particolari legate a questi personaggi e da questo paragrafo si ha una nuova visione della situazione. Lo affronto oggi perché colgo l'occasione per una domanda che mi è stata fatta e ve la leggo così si parte con il video e vediamo un po'. Avrei una domanda riguardante Satana barra Lucifero. Non ho ben capito il pensiero che la Blavatsky ha su di lui perché informandomi ho trovato che Satana sarebbe buono perché la luce senza l'oscurità non esiste e che appunto lui cercava di dare informazioni sul vero Dio. Questa è una riflessione interessante e questo riguardava la domanda appunto del pensiero della Blavatsky. Volevo provare a rispondere e dopo aver detto che non ho grandi conoscenze della Blavatsky, dello studio della Blavatsky, posso dare un'opinione leggendo la pagina precedente del testo che avevo letto da pagina 21. Faccio una piccola lettura dalla miscellanea Elena Blavatsky e Annie Besant e la teosofia moderna. A pagina 20 dice La morale religiosa dunque della teosofia può dirsi uguale nei suoi precetti all'alto cristianesimo con cui accomune la dottrina di purezza e di fraternità universale. Per i teosofi Gesù è un altissimo illuminato simile a Gautama Butta loro fondatore. La Bibbia per essi è un libro sacro al pari dei codici antichissimi dell'Oriente ma essendo quasi tutta metaforica ha bisogno di una chiave per comprenderne i misteri. Chiave perduta nella chiesa cristiana, essi dicono, e da essi perduta. Quindi la storia della creazione, del peccato originale, della vera natura di Satana viene presentata in modo diverso dalla narrazione biblica. Mi proverò a tradurre le idee principali per sommi capi come ho potuto comprenderle spigolando in quel libro dottissimo e curiosissimo della Blavatsky, The Secret Doctrine, eccetera eccetera. E questo l'abbiamo letto. Ecco, sì, dove c'è la nota, l'entusiasta descrizione dell'arcangelo decaduto fatta da Eliphas Levi. Allora, qui dice, Satana rappresenta l'attività, la lotta, l'indipendenza, esso è fuoco, luce, pensiero, progresso, libertà. Con tutto ciò esso è dolore, che è la reazione del piacere provato nell'attività che è la vita. L'uomo, dice la Blavatsky, è un animale più un dio. E qui parla, avevo letto, di Satana, dunque il Serafino, il Cherubino, ribelle, sarebbe il creatore dell'intelligenza umana, esso che diede all'uomo l'immortalità del pensiero, se non quella del corpo. Ecco, io mi fermo qua per provare a rispondere. Intanto volevo aggiungere la nota che già avevo letto nel video precedente di questa lettura era Blavatsky e Annie Besan, la Teosofia moderna, pagina 23, l'entusiasta descrizione dell'angelo decaduto fatta da Eliphas Levi, uno dei più grandi cabalisti moderni. Egli è quell'angelo che fu orgoglioso al punto di credersi un dio, coraggioso tanto da comprare la sua indipendenza al prezzo di eterne sofferenze e torture, bello tanto da adorare se stesso nella pienezza della luce divina, forte al punto di regnare fra le tenebre e l'agonia, e di avere innalzato a se stesso un trono su di una pira inestinguibile, il principe dell'anarchia servito da una gerarchia di puri spiriti, Lucifero è la nostra mente, quelli che reca la luce, quelli che ci toglie al punto animalismo, Lucifero è il liberatore. Allora io come sapete mi sto studiando questa nuova chiave di lettura che nasce dai lavori del professor Corrado Malanga e quindi sapete che come punto di riferimento si parla di tante cose in questo canale ma la cosa principale che mi piace condividere è lo studio di Corrado Malanga e dal punto di vista di questo studio si descrive Lucifero, si descrive un essere di luce e in particolar modo quando qui si dice che Lucifero è la nostra mente in realtà quello che mi viene un po' con questi studi sull'epnosi, gli studi sulle adduzioni, su questi parassiti eccetera praticamente all'essere di luce cosa è l'essere di luce? è una coscienza che contiene mente e spirito cioè contiene la parte l'informazione maschile e l'informazione della conoscenza se vogliamo dire che non è consapevolezza, non è da confondere con la consapevolezza quindi c'è un po' di maschilismo cosa vuol dire? vuol dire che quando abbiamo la presenza di una sola voce maschile c'è mancanza di equilibrio perché alla figura dell'essere di luce manca l'informazione animica, l'informazione dell'eternità, l'informazione del femminile, l'informazione della creazione quindi del creare in modo armonioso, artistico, fantasioso e femminile quindi cosa succede? che questo lucifero sì ci dà la conoscenza ma la definisce come è la nostra mente in realtà da quello che ho potuto comprendere io più che la nostra mente è un parassita che si attacca alla coscienza ecco quindi io la vedo un po' meno romantica come figura di questo personaggio e da quello che possiamo studiare l'uscifero nell'epnosi o meglio l'essere di luce nell'epnosi in una ipnosi in particolare che troviamo in tutte le salze nel web dice tempo fa avevo un corpo infatti lucifero viene nel mito si dice che era un angelo caduto e quindi che veniva dalla luce insieme agli altri angeli cioè dal divino dal dio eccetera ed è un angelo caduto mi sembra di aver compreso facendo un confronto con il mito e con gli studi appunto del professor corrado malanga che in realtà è un racconto di questo angelo che cade che gli si cosano le ali che va a finire nella parte oscura in realtà viene lucifero l'essere di luce lo disegniamo a livello di ottanti nell'ottanta accanto al nostro che fa ancora parte degli esseri con corpo e non di quelli senza corpo che stanno invece nell'ottante dell'antimateria perché perché lucifero fa parte della creazione del primo creatore che è della luce mentre quelli senza corpo abbiamo visto che vengono dal secondo creatore quindi lucifero era è venuto praticamente diciamo che come filone di nascita viene dal primo creatore che rappresenta se vogliamo dirla il fotone se vogliamo dire la luce vogliamo dire il bene vogliamo dire la una parte della medaglia e l'oscurità individuata come il male come l'oscurità come questi esseri senza corpo sono quelli che vengono dal secondo creatore e e fanno parte della stessa medaglia che è la coscienza che si è divisa per parlare di se stessa con questo linguaggio architipico duale quindi cosa succede che nel momento in cui parliamo di lucifero pensiamo a un essere che ha corpo ma che per un motivo x che talvolta il professor corrado malanga dice dall'ipnosi non si è ben capito che ha combinato infatti si dice l'angelo caduto ecco tutto torna perché questo si è ritrovato senza corpo senza corpo e viene a diciamo disturbare dei corpi già esistenti per parassitarsi perché gli manca un corpo e inoltre si nutre di quell'energia che di cui è privo ossia di quella vibrazione che anima che a lui manca proprio perché torna al discorso che dice lucifero a nostra mente più che la nostra mente lucifero rompe coglioni alla nostra mente perché anche lui composto dalla coscienza di mente quindi si ritrova che ci fai chiacchiericci nella testa e nella maggior parte dei casi crea i sensi di colpa legate alla regione soprattutto quella cristiana e in più tende a sminuire la persona facendosi passare per la tua mente inizia a dire non vale nulla e inizia ad offendere la persona quindi questa è la mia visione poco romantica di questa diciamo che papale papale sto essere di luce rompe coglioni ecco poi volevo anche di volevo appunto dire riguardo al pensiero della brava schi posso giusto immaginare che vi è la brava schi faccia un discorso legato sul piano del bene e del male visto come informazione di un unico aspetto della vita e dell'universo e quindi la figura di lucifero probabilmente non ne parla come ne parla la chiesa tant'è che mi ero vista un video qualche qualche settimana fa dove si parlava delle stanze di zian e uno studioso che è stato intervistato il video lo troviamo su youtube e mi raccontava di dei quanti tanti problemi che ha dovuto affrontare la brava schi proprio perché l'hanno presa per una satanista perché parlava di un aspetto della d per quello che ho capito io di un aspetto duale della vita dove lucifero fa parte della parte che non abbiamo compreso di noi e che ci sprona comprendere invece la parte illuminata di noi probabilmente se viviamo all'interno della matrix e nel mondo duale se riusciamo a uscirne fuori ovviamente di degli insegnamenti che possiamo avere dalla luce dall'ombra a quel punto ce ne frega il giusto ecco io non riesco ovviamente come dicevo a dare una risposta di cosa in realtà del pensiero della brava schi riguardante satana o lucifero ma colgo l'occasione per fare la lettura che da un po di tempo volevo fare che riguarda alieni o demoni di pagina 45 e in questo modo rispondo rispondo in base agli studi che stiamo facendo del percorso di decorato malanga e di ciò che è venuto fuori dall'epnosi e quindi dalle informazioni di esperienze varie di persone che si sono viste fare esperienze con questo tipo di personaggi e si può iniziare ad osservare questo fenomeno da un punto di vista un po diverso ma diciamo che questa figura viene forse probabilmente almeno dal mio punto di vista smascherata allora esistono diverse modalità pagina 45 di alieni o demoni menti aliene attive e passive l'ultima frontiera delle abduction esistono diverse modalità di parassitaggio utilizzate dagli alieni a seconda del bisogno la più semplice è quella già ampiamente descritta costituita dall'utilizzazione di una parte del cervello dell'adotto per conservare nella mente di quest'ultimo i ricordi di una vita aliena in questo modo viene a crearsi una sorta di pseudo immortalità del pensiero diversa invece l'azione dell'essere di luce quindi abbiamo letto tempo fa vediamo nella playlist di alieni o demoni ci sono varie letture abbiamo letto anche di questi microchip di queste cose e in particolar modo viene inserita come una specie di chiavina usb un microchip o comunque una sorta di memory card viene inserita nel cervello dell'adotto nella parte sinistra dove si trova la coscienza di spirito praticamente viene inserita una memoria cioè viene viene fatto un salvataggio di una memoria di una vita di un di un'entità cioè di uno di questi personaggi e magari questo dura 30 mila anni quindi l'adotto si ritrova che magari la mattina si sveglia si guarda allo specchio e per qualche secondo non si riconosce perché perché il cervello va un attimo ad attingere per qualche secondo a quella memoria lì e non si riconosce magari si guarda le dita dei piedi e dice cavolo ma che brutti piedi ciò perché si aspetta di vedersi i piedi di uno a sei dita oppure di un sauroide e quindi il piede dell'essere umano gli fa schifo e dice e riconta le dita dice no ma è normale ce n'ho cinque ma in realtà vorrebbe vederne sei come cosa normale chiusa parentesi diversa invece l'azione dell'essere di luce che si aggancia principalmente allo spirito dell'adotto e ne influenza il comportamento dallo studio delle registrazioni dell'epnosi sembra emergere che l'essere di luce è l'inventore delle religioni e del senso di colpa due strumenti che insieme ad altri gli servono per sottomettere l'umanità con l'inganno praticamente cioè lui contiene le due coscienze di mente e spirito gli manca anima ma quando deve fare la il parassitaggio si aggancia a spirito tant'è che quando facciamo il teatro del color test dinamico flash possiamo vedere che la sfera di spirito non ha il suo colore e la sfera di anima non ha il suo colore perché queste vibrazioni che procura il parassitaggio fa leggere ad anima una vibrazione diversa che non è la sua perché se leggesse la sua si vedrebbe blu ma siccome legge l'interferenza mettendo insieme le due il cervello mette insieme le due vibrazioni e magari vede un rosso anziché vede un rosso un verde anziché un blu non perché lei non è blu ma perché il cervello gli mette insieme gli fa la somma di queste due vibrazioni l'essere di luce altri non sarebbe che il mitico lucifero del vecchio testamento questa figura archetipica non deve essere confusa con quella di satana quindi già qui facciamo una distinzione il quale invece come vedremo meglio alla fine di questo trattato deve essere ricollegato alla mitica figura di astarotte incarnata dal sauroide alieno apre una parentesi quando l'addotto si trova che in camera gli entra quella figura che gli sembra satana è probabile che il suo cervello ricolleghi delle informazioni archetipiche legate alla figura di satana poi in realtà in ipnosi una volta che gli si domanda guarda come c'ha le mani guardagli gli occhi guardagli la faccia guardagli le zampe guardagli la coda e uno si accorge che non c'è satana dietro quel personaggio ma c'è un coccodrillino in piedi un sauroide alieno nulla a che fare neppure con il diavolo del vecchio testamento costui era colui che guidava le schiere degli angeli neri tra i quali sono da annoverare i primi due l'essere luminoso e il sauroide quindi ripeto il diavolo era colui che guidava le schiere degli angeli neri tra i quali sono da annoverare i primi due cioè l'essere luminoso e il sauroide cioè satana questo comandante delle schiere diaboliche è l'alieno bianco a sei dita che abita in una zona dell'universo dimensionalmente posta al lato della nostra cosicché mentre il nostro universo si espande la dimensione di questo alieno tende a implodere in se stessa per ragioni che riguardano probabilmente la conservazione della simmetria totale quest'essere o meglio la sua mente aliena è in grado di stabilire un contatto con le menti degli addotti e pilotarle a distanza quindi qui abbiamo tre personaggi alieni che interferiscono l'essere umano e si nascondono dietro un'informazione archetipica della figura come abbiamo detto l'essere di luce si nasconde dietro la figura del mitico lucifero del vecchio testamento astarotte incarnata dal sauroide cioè la figura di satana è invece il sauroide alieno invece il capo di questi due cioè quello che un po e dice il comandante delle schiere diaboliche è l'alieno bianco a sei dita che abbiamo studiato che l'alieno bianco a sei dita è quello che in realtà è cioè è una macchina è un corpo macchina perché il corpo lui non ce l'ha infatti è fatto di puntini neri questo è all'interno di sé a quello che il professor corrado malanga ha soprannominato ringhio quindi in realtà è fatto di un corpo finto e di una coscienza invece fatta senza corpo e tant'è che appunto comandante delle schiere diaboliche dice costui era colui che guidava le schiere degli angeli neri non a caso li chiama neri perché in realtà viene dall'anti universo e dalla seconda creazione tra i quali sono da annoverare i primi due l'essere luminoso e il sauroide questo comandante delle schiere diaboliche è l'alieno bianco a sei dita che abita una zona dell'universo dimensionalmente posta al lato della nostra così che mentre il nostro universo si espande la dimensione di questo alieno tende a implodere in sé stessa per ragioni che riguardano probabilmente la conservazione della simetria totale quest'essere o meglio la sua mente aliena è in grado di stabilire un contatto con le menti degli adotti e pilotarle a distanza come se si trattasse di marionette il suo scopo finale sarebbe quello di riuscire a passare da questa parte prima che prima che il suo universo si chiuda e in un secondo tempo a passare da un'altra parte dopo averci strappato a forza l'anima queste sono le informazioni apparentemente assurde e incredibili eppure valide ricavate dalle ipnosi effettuate il bianco a sei dita sarebbe correlabile con colui che abita all'inferno essendo quel logo la dimensione che lo condanna a morire la sua abitudine non è tanto quella di agganciarsi allo spirito quanto piuttosto alla mente ecco quindi il bio il il l'alieno assedita invece è parassitaggio di mente quindi anche lì con il tria del color test viene fuori che mente c'ha un altro colore e così anima poi di conseguenza quanto piuttosto alla mente dell'adotto e utilizza il suo cervello per muoverlo a distanza come una pedina adotti con questa modalità di parassitaggio sono stati capaci contro la propria volontà di lavorare allo spostamento di ingenti somme di denaro attuando un vero e proprio sistema di controllo finanziario e militare che prende il nome di new world order il nuovo ordine mondiale l'organizzazione e n w o è legata infatti alle principali sette massoniche di potere occulto del mondo le quali sono da sempre classificate come un prolungamento dell'azione demoniaca classica in questo caso ci si trova pertanto di fronte non alla semplice presenza di memorie passive aliene cioè di abbiamo detto di schede di memoria infilate nel cervello ma avere proprie volontà autonome classificabili come memorie aliene attive cioè comandate a distanza apro la parentesi comandate come per esempio con una radiolina con un telecomando comandate a distanza chiudo la parentesi vedremo come distinguere in ipnosi queste due modalità di parassitaggio e come affrontare a livello di pnl programmazione neurolinguistica ecco io volevo condividere con voi questa lettura per fare un po di chiarezza per quanto riguarda questa figura di questa figura di lucifero e poi di distinguerla da quella del diavolo e da quella di satana e si può comprendere che collaborano insieme e che si può usare questi termini un pochino più morbidi cioè hanno poca consapevolezza e tendono a prevaricare sull'altro a parassitare l'altro per un un egoismo personale per cui non si può dire che 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 siano portatori di bene è probabile che come si studia e come si si sta affrontando questo argomento è probabile che a specchio osservare l'esperienza che ci può capitare di fare con un'esperienza di questo tipo ci fa comprendere a specchio la nostra parte la nostra parte da comprendere il fatto che abbiamo una coscienza il fatto che abbiamo anima il fatto che abbiamo la componente che di di eternità il fatto che siamo creatori e quindi a specchio un'esperienza che può essere traumatica dolorosa e lì per lì destabilizzante in realtà una volta che si inizia a comprendere un po il fenomeno riusciamo a a vedere anche questo lato della nostra componente animica e della nostra e delle nostre coscienze quindi questo tipo di cosa che può essere osservata con come il parassitaggio cosa negativa e tutto a specchio poi ci fa comprendere tutte le ci fa comprendere sia le disarmonie le separazioni che sono legate a un a cos'è un parassitaggio a livello di vita personale in questa matrix e poi riusciamo a scoprire chi siamo veramente e quindi possiamo dire che questo è il lato quello che si può definire diciamo che l'utilità di questo tipo di parassitaggio può essere vista a questo punto da questo punto di vista è probabile che nel momento in cui comprendiamo comprendiamo anche non che non c'è più bisogno di fare questo tipo di esperienza perché ce lo siamo detti o che abbiamo una coscienza o che abbiamo un animo che abbiamo le tre coscienze le abbiamo viste possiamo fare il nostro percorso di consapevolezza e a questo punto non ci serve più qualcuno che ci manifesta una separazione per farci comprendere l'unità ecco volevo dire questa cosa e quindi l'utilità di lucifero sì una volta capita capito un po delle cose possiamo anche farne a meno e permettere e diciamo che liberandoci dal parassitaggio anche questo essere di luce a specchio dovrà iniziare a fare il suo percorso senza parassitare e ciucciare i percorsi degli altri ecco quindi anche noi siamo gli passiamo un'informazione da questo punto di vista ecco con questo vi saluto e alla prossima ciao